Il raggruppamento di imprese costituito dalla Puglia SRL e Pagano S.p.A. si è giudicato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo polo scolastico di Tolentino che sorgerà in Contrada Pace. Il progetto definitivo è stato presentato questa mattina nella sala consigliare della provincia dal presidente Sandro Parcaroli, dalla consigliera provinciale delegata all'edilizia scolastica Laura Sestili, dal commissario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Presente anche una delegazione di studenti delle scuole interessate. Dal 2 settembre invece i tecnici aggiudicatari sono al lavoro per la progettazione esecutiva. Stiamo oggi a presentare il polo che sorgerà a Tolentino, un polo molto importante, un vestimento grande per fare tipo un campus americano dove andranno a finire il liceo classico, scientifico e corrierico, ragioneria e l'IPIA e quindi dove portare i studenti su un ambiente congro, bello, con palestre, con aule e anche per i professori. Quindi è un sogno per Tolentino, è un sogno per tutta la provincia. Ha parlato di un giorno importante per tutto il territorio anche la consigliera Sestili che ha voluto sottolineare come l'obiettivo della provincia, dell'ufficio ricostruzione e dell'amministrazione comunale sia sempre stato quello di dare alla comunità scolastica la certezza di avere scuole sicure, belle e funzionali all'avanguardia. Ad illustrare i dettagli tecnici del nuovo polo sono stati il dirigente dell'ufficio edilizia scolastica della provincia, l'ingegnere Stefano Moggetta, il responsabile e unico del procedimento, l'architetto Giordano Pierucci ed il gruppo che ha curato la progettazione definitiva. Oggi accade qualcosa di importante, siamo qui nella sala provinciale col presidente e a dare delle buone notizie per quanto riguarda il campus, questa struttura che secondo me porterà la regione Marche e non solo il centro Italia all'avanguardia sulla qualità scolastica edilizia almeno, perché poi la scolarizzazione e la modalità di educazione è un'altra cosa, ma come vivere all'interno degli stabili è una cosa che va affidata alla tecnica. L'ingegnere Pierucci che segue come RUP ci condurrà in questa via. Speriamo che nel 25 vediamo cominciare a crescere, grow up le nostre mura e i sogni diventino realtà. Il complesso scolastico che andrà ad ospitare il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo coreutico Filelfo, l'ite Filelfo e l'ipiafrau sarà suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica e potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni ripartiti in 44 classi. La costruzione si avvarrà della tecnologia BIM e delle ultime tecnologie in termini di efficientamento energetico e sicurezza. Tetto green ha in varianza idraulica, raffreddamento a soffitto e classe quarta di sicurezza che la renderanno una struttura pubblica strategica. Il complesso centrale del primo corpo sarà dedicato alla didattica e alle attività complementari. Qui si troveranno l'atrio dell'istituto Filelfo, la dirigenza didattica, la segreteria, l'infermeria e l'archivio. Inoltre saranno realizzate anche una palestra, due sale danza ed una sala registrazione con relativi spogliatoi. Nelle due ali est ed ovest, oltre alle aule, ci saranno la biblioteca per gli alunni, le sale professori, l'archivio, alcuni spazi studio per gli studenti e i servizi igienici. Un secondo corpo sarà dedicato all'officina meccanica a servizio del Lipia, mentre nel terzo ed ultimo complesso ci sarà una palestra di tipo B1, con funzione anche di auditorium. Tutto il complesso sarà accessibile alle persone diversamente abili e nella parte esterna del polo ci saranno anche ampi sparsi verdi. La consegna del cantiere è fissata tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2025. Previsti 1200 giorni di lavori, ma la provincia di Macerata ha chiesto alle ditte di consegnare in 600 giorni la prima parte del polo, dove saranno ospitati i licei. L'inter è stato lineare, diciamo complesso, perché effettivamente io ero al tempo assessore alla ricostruzione della regione Marche e stavamo valutando insieme ai tecnici della provincia di Macerata come poter raggiungere una cifra che corrispondesse alle esigenze di un campus, che non dimentichiamo sarà costruito per ospitare circa tendenzialmente mille studenti, 44 classi. Quindi una scommessa che non è solo ricostruzione, ma è anche riprogettazione dell'offerta studentesca della provincia di Macerata e delle Marche per quanto riguarda il cratere. Voi considerate che, se non vado errato, saranno destinati, grazie all'intuizione del Presidente Parcaroli, ad essere ospitati in quel plesso, il liceo classico, lo scientifico, il coreutico, l'ipsia-trau. Quindi parliamo dell'esigenza di garantire a quel pezzo di cratere un centro che sarà chiamato a costruire la cosa di cui abbiamo bisogno, competenze. Noi stiamo quindi ricostruendo le mura, o meglio realizzando le ex novo, ma soprattutto profilando quella che dovrà essere il luogo dove menti, cervelli e sensibilità potranno concorrere a dare slancio ulteriore a tutto il territorio parchigiano. Le prepese sono le migliori perché gli uffici tecnici della provincia, in stretta relazione con l'ufficio speciale della ricostruzione, hanno fatto un lavoro veramente certosino, finalizzato a evitare che magari in sede esecutiva, perché poi il tema è sempre quello, possano esserci scostamenti di prezzo, ma al di là del prezzo anche ritardi o momenti di criticità. Io credo che da questo punto di vista l'appalto integrato, il definitivo che sarà consegnato a dicembre, e poi l'esecutivo e l'avvio dei lavori che tutti noi pensiamo e lo spieghiamo possa esserci a gennaio 2025, possa favorire anche una realizzazione senza, come dire, sorprese.